Il Lecce continua a prepararsi nel migliore dei modi in vista dei play-off. I giallorossi in attesa di conoscere il proprio avversario da affrontare il 21 maggio nella seconda fase, ovvero la vincente di Gumbio San Benedettese, pensano a ricaricare la batteria a recepire gli insegnamenti di Roberto Rizzo che in poco tempo ha comunque dato la sua lieve impronta alla squadra. Anche nell'ultima sfida di campionato con la Fidelisandria in campo si sono intravisti dei piccoli miglioramenti sotto l'aspetto della manovra, ora decisamente più fluida. Agli spareggi promozione però ciò che farà maggiormente la differenza è l'aspetto mentale. Filippo Peruchini ormai ha il suo terzo play-off in giallorosso, potrebbe avere la ricetta giusta per spuntarla una volta per tutte e avere la meglio in questa vera e propria roulette russa. Questo è il pensiero del portiere Scuola Milan. In questa squadra noi stiamo bene, stiamo lavorando tanto in vista dei play-off come è giusto che sia, mentalmente siamo pronti, ci siamo, noi quest'anno ormai qua è il terzo play-off che faccio, so cosa vuol dire, so quello che ci vuole nei play-off e nei play-off ci vuole sicuramente, ha maggior ragione quest'anno che sono play-off ancora più larghi, bisogna usare tanto la testa, soprattutto adesso sono due partite, quindi secondo me bisogna sapere essere bravi a ragionare sui 180 minuti e poi conterà tanto l'aspetto fisico anche oltre all'aspetto mentale, ci stiamo preparando benissimo sia sotto l'aspetto fisico sia sotto l'aspetto mentale, quindi io penso, io sono molto fiducioso e siamo pronti.